Una richiesta al Tribunale del Riesame Circondariale di Arezzo. Potrebbe essere questa la prossima mossa difensiva dell'Avvocato Antonio Bonacci, legale dell'ex direttore generale di Banche Truria, in seguito al sequestro probatorio di una parte della liquidazione percepita. La buona uscita per Luca Bronchi venne votata dall'ultimo CDA, tranne Giovanni Grazzini che si astenne e quantificata in 1,2 milioni di euro lordi. Il GIP del Tribunale di Arezzo, Anna Maria Loperetta, ha firmato un decreto che mette i sigilli a 450 mila euro dei 700 mila euro netti. Adesso il legale di Bronchi sta valutando di presentare opposizione contro il sequestro probatorio, come ha confermato poco prima dell'inizio della seconda udienza preliminare del primo filone di inchiesta, quello per ostacola alla vigilanza. L'Avvocato Bonacci deciderà insieme al suo assistito se presentare la richiesta al Riesame entro i termini, dieci giorni da martedì. Il Tribunale del Riesame circondariale, quindi Arezzo. Quando lo presenterà? Non si sa, il termine è dieci giorni. Secondo quanto riferito dal legale, il GIP sembra individuare come responsabili l'ex presidente Lorenzo Rosi in concorso con Bronchi. Non sembrano esserci altri indagati, ma da altri indagabili, ha aggiunto infine Bonacci.